Non credi di esagerare un po' con questo costume da ninja? È pieno di telecamere qui dentro. Tu non c'hai neanche pensato. Regola numero uno. Continua a fare quello che facevi prima. Stessi orari, stessi vestiti. Continua ad andare a lavoro come sempre e non comprarti un'auto. Non devi cambiare assolutamente nulla. Hai capito bene? Sì, ho capito. Bene. Questi sono tutti i soldi che hai? Più o meno sì. Sì. Quanti ne mancano? Ne ho messi giusto un po' a casa mia dentro un cassetto. E li hai spesi? Sono finito su un sito di escort. È capitato che... Posso capire. E c'era una ragazza che si fa chiamare come un'amica di Socrate. Aveva messo una citazione della Bajazè di Racine e non ce l'ho proprio fatta a resistere. Avresti dovuto? Lo so, i detective l'hanno incontrata da me e la conoscono. Hanno detto che non potevo permettermela. Hanno detto proprio così. Maledizione. Che problema c'è? Dimmi, quando la polizia confisca del denaro? Che pensi che ci faccia? Non lo so. Lo consegna al governo? La metà. L'altra metà invece resta alla polizia. Ci finanziano le operazioni. La polizia cerca sempre prima il denaro. Bene, quella donna non devi più vederla. No, 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 no. Io devo rivederla. Ho... ho... ho detto loro che è una mia amica. È il mio alibi. Cazzo. 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 Cazzo.